I 40 anni sono un grande successo per la Confcommercio che 40 anni fa decise che era ora di puntare a qualificare la ristorazione dell'entroterra perché appunto gli weekend gastronomici riguardano l'entroterra della provincia di Peso Rubino. 40 anni di successo con un costante gradimento da parte dei consumatori, sono circa 12.000 le prenotazioni nei ristoranti in occasione dei weekend autunnali. Tradizionalmente appunto la manifestazione si svolge in un'edizione primaverile e l'edizione autunnale. Il 40esimo anno gode anche del patrocinio dell'Agenzia Nazionale del Turismo, l'ENIT e del Consorzio del Prosciutto di Carpegna dopo, una delle eccellenze assolute dell'enogastronomia del nostro paese. La manifestazione autunnale inizia il 16 settembre e termina il 3 dicembre. Abbiamo 48 ristoranti che partecipano all'iniziativa e che coinvolge 29 località. Mi piace ricordare che i due punti di forza di questa manifestazione sono intanto menù molto importanti a base di prodotti del territorio e l'obbligo di vino della provincia di Peso Rubino ad un prezzo assolutamente promozionale perché il massimo è 29 euro. L'altro aspetto positivo della manifestazione è che ha saputo in 40 anni far conoscere tanti borghi, tanti paesi del nostro entroterra, paesi che normalmente erano al di fuori dei circuiti turistici e che oggi invece sono meta di vacanzieri, di visitatori, di turisti tutto l'anno. Quindi è una manifestazione sì enogastronomica ma che ha anche un alto valore per il turismo del nostro entroterra. Non a caso noi abbiamo anche scelto di promuovere all'interno della guida dei weekend gastronomici anche l'itinerario della bellezza. Questo è il nostro progetto che quest'anno coinvolge 21 comuni della nostra provincia e che è un progetto di grande e straordinario successo visto le tante iniziative promozionali che facciamo in Italia e all'estero. Questa manifestazione per 40 anni ha dato prestigio alla Concommercio ma ha fatto conoscere alla gente, a turisti, i borghi che abbiamo nell'antoterra, i ristoranti che nessuno conosceva, che oggi conoscono tutti bene. Lo vediamo anche molto interesse da parte proprio dei turisti che vengono al mare che chiedono quanto è l'opuscolo, il nuovo opuscolo. Quindi sono già interessati perché tutti in questi 40 anni sono avuto a conoscenza di questi weekend gastronomici che sono stati semplicemente il fiore all'occhiero della Concommercio. I prodotti sono spettacolari in questo periodo perché inizia la stagione sia del tartufo che dei funghi che è quasi andata, però diciamo che è il giusto connubio tra quello che è la nostra campagna, quello che riesce a dare dal punto di vista, non so, delle galline, conigli, tacchini e quello che poi invece ci sono anche le verdure è la componente del bosco che viene fuori. Il prezzo è veramente promozionale, è fatto solo e esclusivamente per avvicinare la clientela al nostro introterra che è bellissimo e che molte volte l'unica attività economica che rimane in piedi in questi borghi sono proprio le attività ristorative ed è l'unica economia del posto.